ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video sono visange o in realtà in realtà mi chiamo fra francesco e vi ringrazio tutti del raggiungimento di 98 iscritti iscrivetevi che comincerò a fare challenge blog però vi dico quando farò i blog i blog usciranno due al mese fino a ottobre perché sono impegnato un po con la famiglia quindi due al mese di blog e di challenge porterò anche bots risposte però un po di cose però dovete inter interagire sotto al video commentate a raffica quello che volete vedere di nuovo nel mio canale datemi idee quello che volete che io quello che riesco vi riesco a portare poi vi smito un mito chi mi commenta sotto ai video che io alle reaction commento e parlo poco perché in casa o casino quindi migliorò nelle reaction e uscirà un video fra dopo questo e un altro video venerdì se non è ben venerdì o domenica perché devo vedere questa settimana però dal 22 al 26 dal 22 al 2 agosto sono un po allogginito scusate raga stavo ti dicendo che farò blog challenge i blog saranno due al mese però uscirà un video dopo questi due e dopo uno venerdì o domenica o sabato sono un po indaffarato però vedete consigliare voi oltre questo in qualche video ci sarà anche altra gente e è tutto